Stefano, ma quanto costa un tuo servizio per il mio matrimonio? Allora ragazzi, oggi parliamo di questo, ok? Quindi cerchiamo di capire come faccio io a fare dei prezzi, quanto costano più o meno i miei servizi, questo ve lo posso anche dire, però ricevo tante domande, tante richieste di persone che appunto la prima cosa che mi chiedono è il prezzo. Quindi chiariamo un attimino questa situazione e cerchiamo di capire perché è sbagliato a un fotografo in generale chiedere subito il prezzo senza prima sapere altre cose. Allora, se non mi conosci io sono Stefano Martelli, fotografo e sono il creatore del primo servizio ibrido Foto più video per matrimoni in Italia. Allora, succede che tante volte gli sposi si approcciano alla scelta del fotografo chiedendo un preventivo. Questa è un po' la tendenza dettata anche da tutti quei portali di matrimonio che cercano soltanto di farvi fare dei confronti di prezzo, quando in realtà per la scelta di un fotografo il confronto non deve essere fatto sul prezzo. Anche sul prezzo, sono d'accordo, ma in primis su tante altre cose. Ok ragazzi? Però, per quel che mi riguarda, a volte ricevo mail di spose che mi chiedono informazioni, che mi dicono guarda quanto costerebbe un tuo servizio per il mio matrimonio. Per esempio, via mail naturalmente ragazze, io non posso dirvi un prezzo. Io posso dirvi, come posso dirvi ora in questo video, un mio servizio foto e video completo costa approssimativamente tra i 1.500 e i 2.000 euro. Ok ragazzi? Però capite che non potete, non posso né capire io voi cosa volete, così, e così non capite nemmeno che cosa offro io con questo range di prezzo. Quindi ragazzi, io faccio un ragionamento molto semplice. Purtroppo ci sono coppie che ci tengono di più al loro matrimonio, al ricordo del loro giorno, che sono disposte ad approfondire. E ci sono coppie che purtroppo ci tengono un po' di meno, dicono l'importante è risparmiare. Ecco, purtroppo ragazzi, se ragionate così, non potete essere le coppie di sposi che fanno al caso mio. Cioè vi spiego, io faccio un servizio, che è il servizio ibrido, che è il primo in tutta Italia. È un servizio molto, molto, scusate, esclusivo, limitato, non faccio più di 20 matrimoni all'anno. E quindi bisogna partire dal presupposto che è una cosa molto importante. Poi io do molta importanza al matrimonio come evento, come, diciamo, evento proprio della vita. Ci do talmente tanta importanza, è stato talmente tanto importante per me, che quando una coppia mi scrive e mi dice Stefano quanto costa un tuo servizio, capite che io non posso fare un prezzo preciso, basato su cosa? Nemmeno ci conosciamo ragazzi. Come fate a chiedermi un prezzo se prima non mi conoscete nemmeno, non parlate nemmeno con me? Dobbiamo guardarci negli occhi, ok? Se io devo essere il vostro fotografo è giusto che mi conosciate, che capiate chi sono, come mi comporto, se vi sto simpatico, se vi sto antipatico, se posso fare per voi. Poi dopo valutate il prezzo perché se no ragazzi qui cosa scegliete, ok? È molto importante, per questo io a volte ricevo mail appunto di spose che mi chiedono e io dico guarda se sei interessata ci sentiamo e prendiamo un appuntamento e purtroppo mi capitano quelle spose che mi dicono no guarda non puoi scrivermi per email, no, ok ragazzi, perché a me piace fare le cose per bene. Ci sono tanti altri fotografi qua fuori disposti a farvi prezzi stracciati, disposti a dirvi subito un prezzo perché per loro voi siete tutti uguali, ok? Per me invece ogni coppia va capita, va compresa, bisogna capire le esigenze, i bisogni, quello che vogliono, se ci sono delle esigenze di prezzo, se il mio servizio fa al caso vostro perché è il primo e l'unico in tutta Italia che offre dei vantaggi tutti nuovi, bisogna parlarne ragazzi, non potete basarvi solo sul prezzo, ok? Dovete vedere se il fotografo vi piace, poi vi faccio un esempio, voglio dire, ci sono tante coppie che mi valutano, che entrano in contatto con me e la prima cosa naturalmente è che deve piacere lo stile. Sono io il primo ragazzi a dirvi che a prescindere dal prezzo, che è una delle ultime cose che si vanno a valutare, che bisognerebbe valutare, ci sono tante altre cose come lo stile, cioè le mie foto vi piacciono, le mie foto non vi piacciono, vi piacciono di più le foto di qualcun altro o il video di qualcun altro? Beh allora io sono il primo a dirvi andate da qualcun altro perché non importa il prezzo, se uno vi fa un prezzo stracciato ma poi non vi piace come si comporta, non vi piacciono le foto e uno vi fa un prezzo più alto ma vi piace, vi entusiasma, vi piacciono le sue foto, il suo video. Sarà normale ragazzi, penso che a costo di spendere un po' di più andiate da chi vi piace. Capite no? Quindi che il prezzo poi alla fine è una valutazione che dipende da tutta una serie di fattori, cioè il servizio che cosa include, che cosa non include, quante ore di servizio, quante foto, come vengono consegnate le foto, il video, quanto dura, come viene consegnato, che cosa è incluso nel prezzo che tu mi dici, ok? Ci sono tante 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 valutazioni. Con me come funziona ragazzi? Beh innanzitutto anche poco fa ho ricevuto una chiamata di una persona ma mi ha detto guarda ci sposiamo, ci stiamo per sposare e una cosa molto semplice, volevamo sapere il prezzo. Ragazzi vi mettete i bastoni tra le ruote da soli perché una cosa molto semplice cosa vuol dire, ok? Una cosa molto semplice vuol dire tutto, non vuol dire niente. Se per una cosa molto semplice intendete un servizietto così tanto per avere un po' un ricordo, un servizietto economico, ragazzi non venite dal primo in tutta Italia che fa il servizio ibrido. Andate da quelli che vi fanno il servizio fotografico a 800, 1000, 1200 euro. Ce n'è quanti ne volete, ok ragazzi? Io non sono uno di quelli. A me piace trattare bene i miei clienti. È logico ragazzi che se andate da dei fotografi molto economici poi il prezzo va a rispecchiare un po' quello che è il loro trattamento verso di voi. Ok ragazzi? È un po' una cosa logica. È logico che se io chiedessi poco lavorerei più malvolentieri, offrirei minor qualità perché insomma è una cosa al prezzo legata poi alla qualità, all'impegno che poi uno mette perché è logico che più si paga un prodotto o un servizio più viene offerta qualità, garanzie, disponibilità, cosa molto importante. E quindi io ci tengo a queste cose. Ma ci tengo soprattutto a fare cosa ragazzi? A dirvi, guarda, il mio servizio magari costa tra i 1500 e i 2000, dipende poi uno cosa vuole, intorno ai 2000 euro per uno dei servizi più completi, poi magari volete anche il fotolibro, eccetera. Quindi posso dirvi, guarda, più o meno intorno ai 2000 euro. Però capite, voi la prima reazione che avete dite, cavolo, 2000 euro. Eh ma cavolo, 2000 euro. Cosa c'è in questi 2000 euro, ok? E non ve lo posso spiegare così frettolosamente per telefono. Quali sono i vantaggi? Magari poi capite che sono vantaggi che vale la pena pagare per il servizio ibrido. E tante altre cose, ok? Però ragazzi, state attenti. Il matrimonio è talmente importante. Pagate talmente tanto per altre cose, magari meno utili di un ricordo tangibile come le fotografie o il video, che per quanto riguarda il fotografo darei un pochino più importanza a ciò che offre prima di capire il prezzo, ok? C'è sempre questa tendenza, ma il prezzo, ma quanto costa? Ma perché ho un budget prefissato? Ma come fa ad avere un budget prefissato? Prima dovete capire. E poi dopo valutate, no? Il prezzo è troppo alto rispetto ai vantaggi che offri. Non fa per noi, ma non che il prezzo deve fare tutto. Ok ragazzi, questo è molto importante. Quindi chiedete sempre prima un appuntamento, approfondite, poi dopo valutate il prezzo. Questo è il mio consiglio, ok ragazzi? Quindi da Stefano Martelli Fotografo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!